Ciao, sono Fabrizio Cucchiella, batterista professionista da oltre 25 anni e ideatore produttore di bacchette, spazzoli e accessori brevettati per percussione e batteria, dal nome Facus Drive Innovations. I miei prodotti già vengono utilizzati da batteristi di fama nazionale. Tullio D'Episcopo, Roberto Gatto, Maurizio Dei Lazzaretti, Marcello Surace, Pietro Iodice, John B. Arnold, Ezio Zaccagnini, Massimo Manzi e molti altri. E testati e apprezzati da batteristi di fama mondiale. Steve Gadd, Dennis Chambers, Gary Novak, Omar Rahim, Virgil Donati, Eric Ballard. Ho realizzato questo video esclusivamente per te, che è un negozio di strumenti musicali per sostituire la figura del rappresentante e dando l'opportunità di visionare la qualità e l'originalità dei prodotti della Facus Drive Innovations e acquistarli direttamente dall'azienda ad un prezzo molto vantaggioso. I prodotti Facus sono innovativi, originali e di alta qualità rispetto ai prodotti in commercio, come la varietà di bacchette in aicole selezionato di prima scelta, ben bilanciate, resistenti e accoppiati perfettamente tra loro. Ogni bacchetta è ideata e prodotta per soddisfare qualsiasi esigenza del batterista. Facus Tix Facus Tix Facus Tix 5A Facus Tix 5B Facus Tix Facus Tix Facus Tix 2B Facus Tix 5B Black Devil Facus Tix 5A Facus Tix 5A White Angel Facus Tix 5A Style Facus Tix 5A Style Le spazzole FACUS sono brevettate grazie al sistema di bloccaggio in tre diverse posizioni che permette di avere differenti intensità del suono con ottima stabilità. Inoltre all'estremità della barretta regolatrice è presente un'oliva in resina cetalica che permette di utilizzare la spazzola capovolta come se fosse una bacchetta su tutto il drum set. FACUS Brushes Classic Second Take FACUS Brushes Classic Third Take FACUS Brushes Light First Take FACUS Brushes Light Second Take FACUS Brushes Light Third Take FACUS Brushes Naked First Take FACUS Don't Touch Un altro prodotto originale della FACUS Dream Innovations è il Don't Touch accessorio per salvaguardare i piatti evitando l'ossidazione del metallo dovuta dal contatto delle mani. Il Don't Touch può essere utilizzato anche come sordina. FACUS Dream Off Il Rim Off è un prodotto brevettato ideato per ridurre notevolmente l'usura e la rottura delle bacchette. È utile inoltre per proteggere l'udito del batterista eliminando le alte frequenze dovute dall'impatto tra rimshot e pelle ristabilendo un suono omogeneo su tutto il tamburo. Bene, se sei interessato ad acquistare i prodotti della FACUS Dream Innovations lo puoi fare liberamente. In allegato in questa email troverai un listino speciale solo per i venditori e la scheda d'ordine dove puoi inserire modello e quantità e rispedire direttamente a ordini.facus-facusdraminnovations.com Per qualsiasi informazione visita il sito www.facusdraminnovations.com e non esitare a contattarci telefonicamente o via email. Grazie della tua disponibilità e spero in una grande e proficua collaborazione. Un saluto da Fabrizio FACUS Cucchiella www.facusdraminnovations.com www.facusdraminnovations.com